Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di aggiornamento del 18 novembre 2022 naturalmente in chiusura della settimana vediamo subito su TradingView la situazione attuale che vede il settore del mercato classico quindi Nasdaq, S&P500 e Dow Jones tutti quanti in positivo, leggermente in positivo chiaramente, andiamo subito a visualizzare su investing.com la situazione attuale dove vede che lo Standard & Poor's 500 lotta per una certa direzionalità naturalmente sempre in guerra in riferimento ai discorsi della Federal Reserve e agli utili naturalmente che sono stati emessi in dettaglio ma andiamo subito a visualizzare l'economic calendar calendario economico che oggi vede il discorso della Lagarde in Europa e le vendite in dettaglio che sono risultate positive e quindi naturalmente considerando queste situazioni abbiamo invece un mercato naturalmente contrastante con alcune azioni che nel Nasdaq stanno cercando di prendere una certa piega che a volte non è molto positiva come per esempio per Netflix che sta andando comunque in una direzionalità di un certo tipo. Vediamo naturalmente a Candela giornaliera e che a Candela giornaliera sta naturalmente con un gap in discesa quindi sicuramente non positivo andiamo a vedere anche Google che sta muovendoci comunque anche negativo e altre oscillano per quanto invece riguarda il Gold giornata a terza negativa per il Gold che sta ritracciando verso il basso per quanto invece riguarda il petro dollaro e gli United States dollar oil scusate discesa con punta di toc quasi verso il precedente minimo e invece per quanto riguarda Bitcoin abbiamo una situazione di 16.600 dollari circa che sta andando a ritestare il valore precedente di supporto a 16.300 e tale naturalmente potrebbe andare a toccare i precedenti minimi intorno ai 15.800 quando concerne naturalmente lo stesso discorso vale per Ethereum che naturalmente potrebbe essere mosso a ribasso sulla strega, sulla scia, sull'onda del discorso relativo a Bitcoin quindi anche il suo prezzo intorno attualmente ai 1210 dollari potrebbe vedere un ripiegamento verso il 1082. C'è da dire naturalmente che su CryptoQuant abbiamo una situazione di market cap che analizzandola vede praticamente il Bitcoin una stima di valori 320 miliardi di capitalizzazione 320 miliardi di capitalizzazione e invece per quanto concerne nelle chart l'analisi che vede praticamente il exchange inflow in vediamolo un attimo abbiamo praticamente per tutti gli exchange una situazione di questo tipo. Naturalmente possiamo selezionare per quanto riguarda il grafico Binance cerchiamo Binance ecco vedete che c'è stato praticamente nell'ottica della visualizzazione proprio di oggi anche se i dati non sono completi qui siamo in un valore che stiamo praticamente parlando di circa 2 e anche oltre milioni di dollari che sono entrati in rispetto praticamente alla situazione precedente. Quindi una candela di ingresso così pesante come è netto valore di ingresso significa che ci potrebbe essere qualcuno pronto anche a muovere il mercato con alte volatilità. Naturalmente di solito quando entrano Bitcoin vuol dire che si vuole vendere Bitcoin quando entrano i dollari di solito uno vuole comprare Bitcoin quindi teniamoci pronti perché la direzionalità del prezzo potrebbe essere obiettivamente solo una ossia il ribasso. Andiamo naturalmente a parlare un attimo di CryptoPanic.com che naturalmente riassume all'interno delle sue news le principali notizie nell'ultimo periodo come possiamo osservare il mercato attualmente abbastanza pericolante cioè si sta muovendo un pochino così e vediamo sempre questa GUSD ossia la Gemini dollaro che praticamente sembra muoversi pericolosamente perché potrebbe creare un innesco di pericolosi fuoriuscite di liquidità se dovesse veramente fallire o avere problemi come sembra essere accaduto. Quindi occhio naturalmente alla situazione perché il Gemini purtroppo ha anche il suo bel da fare in questo momento. Poi naturalmente il discorso è sempre naturalmente se vengono comunicate le informazioni oppure no. Ma vediamo nei dettagli su Cointelegraph. Cosa dice sul Gemini? Il giornale Cointelegraph esprime praticamente che l'exchange statunitensi stanno guidando l'esodo di bitcoin ossia oltre 1.5 miliardi di dollari in bitcoin sono stati prelevati in una settimana. Quindi la paura almeno così sembra da ieri continua a farsi sentire visto che gli utenti continuano a spostare bitcoin dagli exchange verso i wallet non custode ossia le ledger per intenderci. Ecco poi non voglio fare pubblicità alla ledger non ci guadagno nulla attenzione soltanto un riferimento e non un consiglio né di acquisto né finanziario e comunque continuando nella descrizione che tutti gli utenti stanno spostando i propri versi non custodial wallet e non dall'exchange verso le non custodial wallet definisce praticamente che i dati forniti da Coinglass concorrente comunque di CryptoQuant che vi ho mostrato oggi e che a volte cerco di analizzare nel dettaglio i dati on-chain mostrano che sono soprattutto gli exchanger degli Stati Uniti ad aver registrato forti prelevi quindi riduzione dei propri bilanci in bitcoin quindi presumo anche Binance United States potrebbe subirlo comunque sia gli exchange statunitensi stanno guidando l'esodo gli utenti sembrano aver recepito una sorta di fondamentale. L'avvertimento da che dal momento che hanno prelevato oltre 3 miliardi di dollari nella settimana immediatamente successiva alla The Black di FTX e quindi le conseguenze sono solo all'inizio quindi mentre le autorità di regolamentazione verificano indagini muovono e cercano di capire quanti quanti anni si potrà verificare un'analisi attenta e mirata la tendenza a prelevare dell'exchange è ancora in vigore e quindi la riduzione settimanale più consistente proviene da un certo Gemini e quindi quello che vi dicevo prima Gemini è sotto attacco e con un calo di oltre 30 mila bitcoin seguita a ruota da Kraken, Binance e Coinbase. Quindi non sorprende che questi exchange stanno subendo il proprio collasso sistemico che potrebbe veramente innescare una situazione domino. Non sorprende quindi che gli exchange statunitensi abbiano registrato prelevi particolarmente significativi e questa settimana i legislatori hanno annunciato un'udienza dedicata a quanto accaduto all'exchange FTX e invece il CEO il signor Sam banchiere fritto o fallito sarebbe stato estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas. La caduta di FTX quindi ha recato un danno enorme a e oltre a un milione di utenti molti dei quali erano persone comuni che hanno investito i loro sudati risparmi per poi vederli scomparire nel giro di pochi secondi. Ha dichiarato Maxine Waters presidente della House Financial Services Committee degli United States che ospiterà l'udienza in questione che è come riportato da principali media. I dati di Coin Glass mostrano anche gli exchange non esposti a FTX e hanno avuto difficoltà ad arginare il fenomeno della fuga dagli exchange. In totale per questa settimana 134.000 bitcoin hanno lasciato i loro book, l'equivalente di 2.2 miliardi di dollari a prezzo attuale di cui circa 1.5 il proveniente da piattaforme statunitensi. Quindi grave sofferenza finanziaria, i long term holder hanno un MRV naturalmente in calo, in picco quindi stanno comunque sicuramente perdendo e quindi i grafici non sono di certo positivi perché i coloro che detengono a lungo termine quindi gli LTH, i bitcoin quindi da tanto tempo, i soggetti quindi di questi detentori da monete che si considera che li detenete da oltre 155 giorni sono in perdita dell'oltre il 33%, almeno in controvalore ovviamente. Si tratta quindi di un dato quasi senza precedenti e guagliato solo dalla fase ribassista nel 2018 quando il picco arrivò a 20.000 e poi scese fino a 3.000, quindi quando toccò il valore medio del 36% di perdita per coloro che detenevano bitcoin da oltre 155 giorni quindi long term holder ossia detentori a lungo termine. Quindi ragazzi spero di aver di fatto cosa gradita nel citare naturalmente le osservazioni che potrebbe arrivare una elevata volatilità a breve quindi muovere il prezzo chissà verso lato, chissà verso il basso ma prevalentemente quando si riversano bitcoin in un exchange a volte per venderli quindi attendiamo, speriamo di no, ma naturalmente non avendo la sfera di cristallo si può soltanto ipotizzare statisticamente dove può essere la direzione e la direzione obiettivamente trovandosi completamente al di sotto delle medie mobili come potete osservare la direzionalità qui ci dice di andare short e qui naturalmente gli indicatori sono purtroppo solo short. Ragazzi la situazione è questa. Spero di essere stato utile per una visione naturalmente on chain e soprattutto relativa a questa quantità di ingresso in netto all'interno di Binance di un'enorme quantità di bitcoin. Grazie ancora, ciao e alla prossima!